allora oggi nuovo video un video tag che si chiama la bocca della verità l'ho visto sul canale di crista e il ciao tesoro un bacio grandissimo prima di iniziare mi vedete che sono smanicata perché veramente fa caldo infatti ho questa maglietta qui ha maniche corte perché se muore proprio di caldo e quindi ok allora le domande ne sono undici undicesima dice tagga e iniziamo subito già l'ho letta le domande è molto carino allora prima domanda se ti presentasse una veggente vorresti sapere la verità su qualcosa in particolare sì perché comunque credo che una verità in più farebbe sempre bene comunque e quindi sì seconda domanda ti piacerebbe entrare nella mente delle persone che conosci per sapere se le cose che ti dicono sono vere o no si è una cosa che mi piacerebbe veramente veramente tanto sarebbe una cosa veramente fantastica perché non sai se alcune persone che possono dire la verità sempre incerta e qualche dubbi dipende dopo su determinate cose che ti dice eccetera eccetera e quindi sarebbe una cosa fantastica sì quindi mi piacerebbe molto entrare nella mente delle persone quello che pensano di te o anche di altri per sapere una tua curiosità è una roba bella sì sarebbe molto molto forte terza domanda sei una persona sincera al 100 per cento sì perché io se devo dire le bugie le dico in caso a fin di bene ma delle bugie che poi possono essere delle sciocchezze delle bugie proprio vere vere proprio non sono proprio il tipo io posso una schietta che dice robin dalla faccia come sta sia bene o male comunque te lo dico che la verità lo so che certe volte comunque fa male però io preferisco così perché c'è tante persone che preferiscono che invece dici le bugie perché tutte che dicono sì dimmi la verità dimmi la verità però sì c'è qualcosa sbagliato si offendene o si arrabbiano eccetera allora non la vuoi la verità deve accettare anche una critica se tant'è sulla verità comunque sì sono sincera 100 per cento quarta domanda preferiresti confidare le tue verità più scomode o dare 500 euro in cambio no preferirei confidare le mie verità più scomode anche perché su queste cose non c'ho proprio problemi quinta domanda in amore dici in amore dici più verità o bugie no in amore poi soprattutto capirebbe come fatta io no io sono proprio che te spara tutto ti dico tutto un conto se una persona mi dice guarda greta sta zitta è un segreto tramite non lo dire nessuno allora sì lì ovvio prossimo cosa dipende da me soprattutto poi con roberto con siamo molto affiattati siamo molto attaccati io sono stata la prima che ogni ragazzo comunque diciamo che conoscevo all'inizio dato che sono stato sempre per le storie serie dico sempre però c'è deve essere realtà e sincerità e verità non voglio la falsità non voglio bugie niente di niente questo roberto lo sa io l'ho detto cinque anni fa quasi ormai perché 3 giugno fanno cinque anni e io l'ho detto anche se qualcosa di sbagliato qualcosa che hai fatto non aveva paura dimmelo che poi poi pensa che te posso lasciare eccetera tanto purtroppo è la vita così se uno sbagli dice pensa di prima per dire no quindi preferisco di più che mi c'è la verità che c'è sto male meglio così invece che mi devi di una bugia che sto con lui che poi inutile che c'è sto perché ho fatto una determinata cosa per dirvi adesso quindi noi soprattutto in amore poi no no se dico proprio la verità non sono per le bugie non mi piacciono proprio nei tradimenti di bugie di robe che odio l'ho detto sempre se sta domanda hai mai preso in giro qualcuno perché ti imbarazzava a dire la verità no sinceramente poi non mi è mai capitato sta cosa ma a parte anche se me metti caso mi dovesse essere capitato non prendere mai in giro una persona perché non dire la verità sinceramente no settima domanda è mai provato piacere di dire una bugia no perché ripeto comunque se devo dire le bugie le dico proprio quelle proprio fila proprio deve essere proprio a fin di bene sono come ripeto tutto sempre la verità e poi credo che di una bugia invece sentirei male proprio perché poi su una che invece di ripeto anche come ho detto prima su una schietta che ti dico le robe perché te le voglio dire che sennò c'è sto male proprio quindi credo che dovrei di una bugia bella grossa credo che ci starei male malissimo non gliela farei mai siamo arrivati la settima ottava domanda come ti senti quando racconti una bugia ecco ripeto allora già quando devo raccontare delle bugie vi ripeto a fin di bene ma che sono sciocchezze proprio piccolezze piccoline già lì un po me sento male però se lo faccio lo faccio a fin di bene ma le bugie cazzatelle quelle mie non è bugia proprio quelle norme quindi apposta dico già mi sento male diciamo a dire una bugia a fin di bene che è una bugia bella e grossa che mi mazzo proprio io per come sono fatta io ottava domanda non è vero l'ho detta non ha domanda nella tua vita ti si sono presentati più amici sinceri o falsi allora i dei amici non è che c'hanno tanti perché io fin da piccolo non sono dovuta mai uscire in gruppo dei 10 20 persone perché non mi piace però scopri averne pochi ma boni perché dopo quando c'è quel gruppetto dei 10 15 20 persone quello geloso di quelle quello che parla male di dietro delle cagnare cazzo mazzi non ci voglia e quindi di cui amici pochi che c'ho dovrebbero essere sinceri da come almeno lo vedo io decima domanda e la penultima credi sia più giusto dire la verità seppur dolorosa o dire una bugia che non faccia male ovvio io preferisco più dire una verità come ho già detto anche prima anche se dolorosa però la persona bisogna che lo accetta tanto purtroppo ragazzi la vita è così c'è c'è tante persone ripeto come prima che tu dici no vuoi la verità vuoi che mi dice la verità così del qua dell'appo dopo la fine invece in realtà vogliono la bugia dentro di loro perché non se vuole non senti effettivamente dire quello che che è insomma io quindi solo di una cosa ripeto lo dico anche se può fa sta male ovviamente non è che lo dico tata tata coscia manetta cioè lo dico con calma spiegandolo glielo dico però comunque io non sono per le bugie ripeto quindi per me sia molto giusto dire la verità anche se può fa male anche se dolorosa non ha bugia che può che non fa male c'è non so passa alcune volte dire una bugia che non fa male con la persona lo puoi pure di ma una volta dopo basta c'è bisogna che dice la verità quello che senti veramente di quello che provi insomma allora udicesima domanda invece dice tagga chi vuoi io taggo a tutte come sempre sotto all'info box vi lascio ovviamente tutte queste domande e niente se il video vi è piaciuto mettete pollice in su sotto il video commentatemi fatemi sapere cosa ne pensate delle risposte che ho dato a queste domande se qualcuno di voi in determinata domanda la pensa come me o anche no fatemelo sapere niente vi saluto un enorme bacio grandissimo e ci vediamo per il prossimo video ciao